carissimi amici e amiche bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi vizi e virtù dove siamo arrivati alla trattazione della meravigliosa virtù cardinale della giustizia che questa sera ci intratterrà nella sua parte più nobile e bella cioè la virtù della religione diamo con ordine perché io sono particolarmente come dire entusiasta e desideroso di affrontare questa prima bellissima parte della virtù cardinale della giustizia che vedremo ne ha veramente tante adesso quindi ci occuperà ancora un po ricordiamo sempre che quando si parla di virtù cardinali vuol dire il nome stesso ci rimanda alla all'idea del cardine no quindi attaccato a un cardine vuol dire che ci ruotano intorno una serie di virtù che sono appunto incardinate a questo cardine pensate che secondo sant'ommaso sono ben nove le parti integranti della giustizia cioè le sue diramazioni specifiche le elenco poi le vedremo tutte quante la prima la più importante è la religione cioè la giustizia verso dio immediatamente dopo viene anche la pietà l'osservanza o rispetto la terza la gratitudine o riconoscenza la quarta la vendetta la quinta nessuno si stupisca ecco di questa cosa a suo tempo quando ne parleremo chiariremo in che senso la veracità la sesta l'amicizia o affabilità la settima la liberalità o generosità ottava e l'equità o epicheia la nona la nostra analisi concernerà che andremo a vederle una per una tutti quanti queste nove parti evidentemente e i relativi vizi opposti perché i vizi opposti come sappiamo bene sono sempre assai illuminanti perché quando uno capisce bene il vizio opposto capisce ancora meglio la virtù contraria quindi la virtù di cui quel vizio è la negazione bene fatte queste piccole premesse andiamo immediatamente alla trattazione perché si aspetta un bel cammino soprattutto per quel che concerne la prima parte della giustizia la virtù della religione sant'ommaso d'aquino scrive esplicitamente evidentemente io sottoscritto sottoscrivo al 400% che la religione è in assoluto la più alta tra le virtù morali perché regola la giustizia verso dio specificando ciò che a lui è dovuto in termini di culto in termini di obbedienza con particolare riguardo ai mezzi interni ed esterni necessari per rendere differenza e onore a dio oggi è veramente il caso di dire una frase fatta e retorica però comprendendo già queste cose bisogna assolutamente dire non c'è proprio più religione se c'è proprio una virtù proprio calpestata ma più che calpestata completamente ignorata data l'abnormità proprio spaventosa di certi comportamenti è la virtù della religione quindi la prima parte della virtù cardinale della giustizia la più rilevante delle virtù morali cioè i nostri doveri doveri verso dio doveri che e mi raccomando io spero tanto figlioli miei cari che chi ascolta queste cose che come sempre non sono cose miele io faccio semplicemente da da cassa di risonanza non c'è niente di più bello guardate i miei cari di poter far da cassa di risonanza di queste cose di queste cose meravigliose che la chiesa custodisce che i grandi santi e dottori hanno approfondito e che si tratta semplicemente di riceverle e poi di metterle in pratica per me in primis evidentemente e poi per tutti coloro che nel cuore sentiranno la bellezza di tutto ciò e si sentiranno quindi desiderosi stimolati invogliate a metterle in pratica allora abbiamo dei doveri gravi verso dio gravissimi quindi sono i più importanti evidentemente non certamente perché possiamo aggiungere qualcosa all'infinita gloria si specifici si specifichi scusate intrinseca di dio la gloria intrinseca di dio o gloria essenziale è immutabile perpetua e assolutamente insuscettibile di ricevere alcun tipo di chiamiamola così tra virgolette alterazione dall'esterno né in meglio né in peggio nessuno può farci niente d'accordo? quindi dentro questo ambito bisogna subito specificare che compiere perfettamente la giustizia verso dio cioè essere religiosi che non significa appartenere ad un ordine religioso perché tutti dobbiamo esserlo vuol dire per l'uomo procurare il suo proprio bene perché essere a lui sottomesso e riconoscergli senza esitazione alcuna l'assoluta sua eccellenza di sopra di ogni ente creato è la perfetta felicità cioè definirci per esempio sottomessi a dio sapete che il termine sottomesso provoca sempre qualche rivolgimento interiore ma sottomessi a dio è una cosa meravigliosa che possa succedere e per amore suo alle creature che lo rappresentano evidentemente entro i limiti che poi andremo piano piano a ripassare ora la prima cosa da fare è cercare l'etimologia del termine religione che viene evidentemente dal latino religio religionis la cui etimologia è discussa sottomesso da qui non ne considera due due possibili etimologie ciascuna delle quali contiene una parte di vero quindi di vero da un lato il termine religio potrebbe derivare dal verbo latino releggere che significa sia rileggere sia anche attenzione rieleggere in questo senso per religione dovrebbe intendersi la frequente considerazione delle cose di dio quindi rileggere come quando noi rileggiamo qualcosa quindi ci torniamo sopra quindi la frequente considerazione delle cose di dio oppure rileggere la rielezione di dio come proprio signore che è comunque un atto che dobbiamo fare a seguito dell'abbandono del peccato raggiunto mediante la conversione cioè dio è il signore ma noi dobbiamo sceglierlo come tale se vogliamo sceglierlo come tale scegliere dio come signore è uno degli atti più importanti che spetta la nostra libertà sappiamo bene che nell'antico testamento nel libro del Deuteronomio quando dio si manifesta al suo popolo dice ascolta Israele il signore nostro dio è l'unico signore tu amerai il signore attenzione tuo dio quindi che il signore sia il tuo dio dipende da te perché sei tu che devi scegliere come tale che il signore sia il tuo dio e che il tuo dio sia il signore dipende da te ecco l'importanza di questa altra sfumatura nel releggere no rieleggere o aggiunge Santo Maso d'Aquino però che il termine religione può anche derivare dal latino religare in questo caso significa stringere un legame e in questo senso indicherebbe il legame che si stringe con l'onipotente e che legame abbiamo noi e come li stringiamo i legami con l'onipotente a in effetti attraverso i vari atti di culto interni ed esterni ripeteremo tutti è preghiere sacrifici genuflessioni prostrazioni l'uomo si lega a dio in modo da non scostarsi da lui e questo accade spesso con una sorta di istinto naturale per cui si sente obbligato a prestare all'attissimo la debita riverenza ora guardate quando una conversione è autentica quando si comincia veramente a mettere dio al primo posto viene assolutamente non soltanto viene spontaneo ma si avverte l'esigenza di compiere questi gesti anche esterni cioè allora quando una persona per esempio difficilmente si inginocchia davanti all'altissimo non genuflette non si inginocchia la consagrazione o cose di questo genere state tranquilli che non ha ancora minimamente interiorizzato può darsi che non è consapevole ma fa niente la realtà oggettiva comunque è questa non ha minimamente interiorizzato nulla della virtù della religione zero perché l'anima che comincia a percepire anche in maniera vaga la presenza di Dio sente il bisogno di dire attraverso anche dei gesti io voglio stare legato a te io sono meno di te io voglio essere sottomessa ti voglio servire perché tu sei il tutto io sono il nulla questa è una delle manifestazioni somme di questa virtù in ogni caso non ci fermiamo troppo su questo punto qualunque etimologia si scelga e guardate per quanto mi riguarda nulla vieta di tenerle tutte per valide perché abbiamo visto questi tre aspetti releggere nel suo doppio significato e religare colgono tutti degli elementi molto molto importanti quindi non è che bisogna fare una scelta viene da questo viene da quell'altro necessariamente si possono anche tenere tutti quanti compresenti per approcciarsi in prima battuta a questa bellissima virtù ora in ogni caso la religione del suo esercizio è strettamente correlata alla santità e anche qui di nuovo santità possiamo andare a fare un altro giro perché ha diverse etimologie allora a mio avviso la più significativa è l'etimologia greca perché santo in greco si dice agios dove c'è l'alfa privativo e geos che significa terra cioè chi è il santo il santo è il privo di terra bellissima espressione privo di terra quindi significa distaccato dalla terra e dalle cose terrene e quindi puro la purezza non è solo e forse nemmeno anzitutto la capacità di tenersi lontano dai vizi della lussuria certo che è anche questo ma la purezza è proprio essere il senza terra una persona che distaccava dalla terra figurati se si imbratta con i vizi della lussuria però va anche oltre non soltanto non si imbratta con i vizi della lussuria non si non si contamina con il mondo espressione molto bella utilizzata nel libro dell'apocalisse e per una felice dioincidenza questo è un eco di ciò che Gesù ha detto oggi nella chiesa attraverso il vangelo di questo giorno del giorno in cui cade questa questa catechesi il 30 maggio del 2022 dove nella messa feriale c'era abbiate fede in me attenti che voi avrete tribolazione nel mondo ma abbiate paura io ho vinto il mondo ho cercato di dire durante l'omelia guardate che tra mondo e Gesù non ci può essere nessun tipo di alleanza né di amicizia perché chi ama il mondo scrive San Giovanni l'amore di dio non è in lui e essere santi vuol dire essere proprio privi di mondo privi di terra o dall'altro lato c'è anche però anche in questo caso una duplice possibile etimologia latina cioè Sanctus in latino può essere una forma sincopata e quindi derivante da Sanguine Tinctus cioè letteralmente Tinto di Sangue che allude velatamente al martirio Tinto di il Santo è Tinto di Sangue cioè è capace di mettere Dio al di sopra di ogni cosa compresa la propria vita e se anche non effondesse il sangue nel martirio come dice la lettera agli ebrei non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato cioè se anche non verserò il sangue in libazione attraverso il sacrificio cruento della mia vita pronto in qualunque momento a dare il sangue per l'altissimo in atto appunto di attestazione a lui che tu stai sopra di tutto e stai sopra anche la mia vita che è sempre a tua disposizione qualunque istante l'altra etimologia latina di sanctus viene da sancitum cioè una cosa sancita lo diciamo anche in italiano è una cosa stabilita chi è il santo è colui che stabilmente sa applicare a Dio tutti gli atti dell'anima che intende fedelmente servirlo e questo in modo permanente e stabile qui c'è un'allusione ad una caratteristica fondamentale della santità cioè non è che si è santi per cinque minuti o per mezza giornata cioè uno un giorno fa una botta da santo fa chissà che cosa sbanca con super preghiere super sacrifici super opere buone super emoti eccetera eccetera dopodiché finito il giorno dopo torniamo alla mediocritas mundana no il saper applicare a Dio in modo stabile e permanente tutti gli atti dell'anima che intende fedelmente servirlo ora questa virtù evidentemente l'abbiamo già capito abbraccia tutti i primi tre comandamenti e a sua volta la stessa virtù della religione attenzione che è la prima parte integrante della virtù cardinale della giustizia a sua volta degli atti specifici e particolari in cui si esplica che sono che costituiscono poi altrettante virtù la devozione l'adorazione la preghiera il sacrificio le oblazioni offerte le decime i voti il giuramento lo scongiuro e la lode di Dio tanti eh e tutti questi sono atti tutti meravigliosi e sublimi tutti bellissimi e per cui evidentemente adesso piano piano li andremo a scandagliare tutti quanti perché scandagliando i singoli atti comprenderemo poi nell'insieme tutta la bellezza di questa stupenda virtù devozione come prima cosa la devozione nel nel canone romano che è tuttora adesso anche nel novo sordo cosiddetto l'espressione tipica della liturgia romana questo si chiama canone romano dice memento domine ricordati signore dei tuoi fedeli ricordati tutti i presenti dei quali conosci la fede e la devozione conoscere la fede e la devozione che cos'è la devozione vedete come la liturgia li mette insieme la fede e la devozione che sono due atti molto molto differenti l'uno dall'altro ma sono entrambi necessari perché la fede senza devozione sapete che la fede non bisogna andare a letto tutte le stupide agire l'abbiamo già vista a suo tempo la fede è anzitutto una forma di conoscenza cioè un qualche cosa che chiama in causa il nostro intelletto tu le verità di fede le devi conoscere e le devi credere non è un'operazione sentimentale come dire c'è la fede devi fare esperienza la fede la devi conoscere cioè tu devi adesso tu devi qual è l'unico vero Dio ce n'è solo uno di vero Dio ce ne stanno altri è un altro discorso che altri che ancora non conoscono chi è il vero Dio comunque adorano un Dio lo cercano ma se tu vuoi sapere chi è Dio e quindi poi rendergli il culto che gli è dovuto come deve essere reso perché uno è tu devi sapere che Dio è uno ma è trino nelle persone uguali distinti che sono il padre il figlio e lo spirito santo questa è una verità di fede e questa è una cosa che si propone al nostro intelletto trascendendolo tra l'altro ed è per questo che la fede come abbiamo visto a suo tempo implica un atto della volontà che dice ma 3-1 1-3 ma sì ci credo ecco la devozione come dire è la parte affettiva della persona quindi è il modo con cui le cose credute vengono poi amate desiderate allora donazione viene da devovere che significa letteralmente consacrare devolvere noi abbiamo in italiano devolvere che significa è la volontà di compiere con prontezza le cose attinenti al servizio di Dio per cui sono devoti quelli che si consacrono a lui a Dio e sono totalmente a lui sottomessi ecco il sacrificio spirituale interiore la devozione essere devoti quindi c'è una cosa che attiene al servizio di Dio subito capisco che è una cosa che vuole Dio subito questo è il devoto il vero devoto la devozione a Dio ha come causa la devozione a Dio cioè a verbo avere a Dio come causa esterna e la meditazione e la contemplazione della bontà di Dio che eccita l'amore e delle proprie deficienze cosa che uccide la superbia e la presunzione come cause interne cioè come si fa a diventare devoti io vorrei tanto essere devoto ma non mi ci sento bene comincia a pensare anzitutto a Dio in quanto Dio come lo conosciamo dalla fede e questo l'abbiamo visto per esempio nel ciclo di catechesi dedicato al catechismo di San Pio X che comincia proprio l'immortale catechismo di San Pio X questa grande contemplazione di Dio e soprattutto dei quattro attributi che costituiscono come dire la quiditas primaria della natura divina cioè l'eternità l'immensità l'onniscienza e l'onnipotenza quindi Dio come causa esterna vuol dire che tu non diventerai devoto se non focalizzi che Dio è Dio anzitutto però ecco questo Dio che è Dio susciterà il tuo amore nella misura in cui comprendi quanto come dice San Giovanni noi amiamo perché lui ci ha amato per primo quanto lui ti ama quanto lui è buono quanto lui ti ha ricolmato di ogni bene di ogni grazia che ti ha amato che non ti poteva amare di più e quindi questa è una cosa che va contemplata anzitutto va conosciuta e poi va contemplata in continuazione per poter essere citati nel nostro amore perché l'amore verso Dio che è il primo comandamento ha Dio come causa ripeto San Giovanni scrive non siamo stati noi ad amare Dio ma è lui che ha amato noi noi lo amiamo perché egli ci ha amati per prima quindi non conoscere l'amore di Dio comporta l'impossibilità di essere devoti o altra cosa immensa e importantissima da contemplare sono le nostre miselle le nostre deficienze continue che come dire marcano questa questa cifra di 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 immensa distanza tra noi e Dio e quindi la capacità di stare al posto nostro e di volere quindi che Dio sia Dio e che io sia il nulla che sono e niente di più o quando si ha questa cosa produce due grandissimi meravigliosissimi effetti il primo è la gioia spirituale imperturbabile e da cosa viene dal pensiero costante poi diciamo così vissuto anche istante dopo istante di quanto Dio ti circonda ininterrottamente del suo amore e l'altro effetto è una delle poche forme sante di tristezza la tristezza secondo Dio cioè per la considerazione delle miserie umane da cui scaturisce quella tenerezza di affetto scrive San Tommaso che può portare fino alle lacrime quindi le lacrime sante che sono un grandissimo dono di Dio un dono che si può chiedere perché le lacrime sante vanno a integrare quella beatitudine evangelica beati gli afflitti perché saranno consolati le lacrime sante non sono i piagnoni perché i figli di Dio non piangono mai come piagnoni d'accordo quindi per la debolezza il pianto ordinariamente è un segno di debolezza in che senso c'è una cosa che mi fa soffrire c'è una cosa che mi uccide e io piango perché esterno questa profonda sofferenza che io subisco però d'accordo muoro una persona cara ne piango l'assenza perché non c'è più le lacrime sante non sono queste quando Gesù dice beati gli afflitti perché saranno consolati non dice non parla di questo parla di queste lacrime le lacrime tra le tante lacrime sante quelle da cui che scaturiscono dalla considerazione della nostra miseria umana unita al pensiero di quanto Dio si prenda cura si chini e ami tale grande miseria noi dobbiamo chiederci noi verso Dio oggi nel momento in cui sento sta catechesi provo un profondissimo affetto il desiderio di stare con lui e se non ci posso stare mi manca ecco se queste cose qui le avverti comincia a strutturarsi la virtù di religione e soprattutto questa bellissima sua parte che è la devozione evidentemente la devozione ecco adesso dolenti note è una cosa che è stata negli ultimi tempi non solo messa da parte ma sistematicamente attaccata con la sua caricatura il devozionismo ogni volta che compaiono dei segni di devozione c'è il pericolo che siano stroncati e epitetati con questa espressione il devozionismo ah ma che serve sto sempre in ginocchio tutte queste cose qui la fede è un'altra cosa la fede è una cosa seria tutte queste cose esteriori qua genufessioni impicci imbron a che servono servono a metterti in mostra servono a farti vedere servono a alimentare tu sei superbo se fai quelle cose ovviamente non sto dicendo questo perché le penso sto riferendo cose che accadono e che mi hanno raccontato un'infinità di volte non bere retta queste sciocchezze se c'è un pochino di devozione coltivala e sappi che è molto gradita al signore e più ce n'è meglio è seconda cosa l'adorazione oh un'altra cosa assolutamente obsoleta e dimenticata l'adorazione consiste nel rendere omaggio alla maestà infinita di Dio scrive Sant'Ommaso con atti esterni esterni di umiliazione del corpo in segno di latria stare in ginocchio è il principale ma si può anche stare prostrati con la faccia a terra si possono fare gli inchini profondi per esempio una cosa che quasi nessuno fa tanto per attualizzare un po' i contesti catechetici quando la domenica nel credo si dice e per opera dello spirito santo si è incarnato nel seno della vergine maria e si è fatto uomo che nella santa messa e il rito antico in quel momento tutti giù per terra tutti in ginocchio ora nel novo sordo si fa solo a natale e alla festa dell'annunciazione e non so quanti parroci poi lo comunichino io ci provo anche se poi difficile che le persone seguano ma nel giorno dell'annunciazione nel natale ci si mette in ginocchio come doveroso ma quando non ci si mette in ginocchio non è che si sta a fare niente perché si fa l'inchino profondo gli inchini della testa sono di due generi quindi c'è chinare semplicemente la testa che si ha per esempio quando si pronuncia il nome di Gesù per esempio nel gloria quando si dice tu solo del santo tu solo del signore tu solo l'altissimo Gesù Cristo tutti devono chinare la testa semplicemente chinare la testa in segno di adorazione leggera anche quando si nomina il nome della della madonna o quando si nomina il nome del santo del giorno si china la testa o quando si recita il gloria al padre si china la testa poi c'è l'inchino quindi che è un abbassamento non semplicemente la testa ma la la schiena si curva per esempio quando si passa davanti all'altare quindi ai luoghi che rappresentano il signore senza contenerlo non si fa l'inchino davanti al tabernacolo davanti al tabernacolo si fa la genuflessione perché lì non c'è il simbolo di Gesù come l'altare ma Gesù Cristo stesso quando il vescovo durante le celebrazioni dei vescovi alza al termine della lettura del Vangelo il lezionario o l'evangeliario e dà la benedizione con il lezionario o con l'evangeliario si sta inchinati non semplicemente con il capo coperto si sta inchinati inchinati vuol dire a 45 gradi con la schiena e quando si riceve la benedizione del sacerdote ecco stiamo facendo proprio stasera un po' di catechismo dentro si sta inchinati a 45 gradi ma quando c'è e per opera dello Spirito Santo si è incarnato si fa l'inchino profondo l'inchino profondo vuol dire che è a 90 gradi adesso non voglio fare le sceneggiate anche se ci stanno i video poi no anche perché poi comunque nel podcast non si vedrebbe ma l'inchino profondo a 90 gradi significa che cioè ti devi proprio inchinare profondamente ed insegno di iratria perché il mistero dell'incarnazione va adorato l'inchino profondo per esempio quando vedete sempre nella nel nuovo sordo della della Santa Messa quando ci sono le cosiddette concelebrazioni dopo la consagrazione questa è la regola solo il celebrante principale genuflette tutti gli altri concelebranti fanno l'inchino profondo però quindi questi gesti sono segni di latria latria capiamo questo termine no latria vuol dire culto culto di adorazione per questo che il peccato gravissimo di idolatria vuol dire rendere questo culto di adorazione a un idolo a un eidon quindi ad una cosa che è semplicemente una caricatura una rappresentazione è una falsa rappresentazione della divinità quindi non bisogna assolutamente dargli culto di latria e si ha appunto l'adorazione quindi che esprime la propria totale assoluta ed incondizionata sottomissione servitù e dipendenza perché noi così stiamo nei confronti dell'altissimo che poi Dio ci ami e ci elevi a un grado superiore come dice Gesù nel Vangelo io vi ho chiamati amici non servi lascialo fare a lui ma per quanto sta in noi noi dobbiamo sentirci così lieti di essere totalmente assolutamente ed incondizionatamente sottomessi a lui lieti del titolo di suoi servi se magari ce lo volesse concedere e di dipendere da lui in tutto e questa adorazione esterna è l'espressione sensibile della sottomissione abbiamo capito affettiva e adorante interna che è la devozione la devozione è appunto questa sottomissione affettiva e adorante interna questa adorazione di latria è dovuta a Dio solo invece è possibile venerare non solo è possibile è doveroso lo vedremo a suo tempo venerare le creature sommamente eccellenti in quel caso il gesto si chiama dulia non latria perché il culto di latria è dovuto sempre e solo a Dio andiamo avanti terzo atto della virtù di religione la preghiera la preghiera o orazione e qui entriamo in un altro grande grande fiume orazione che è sinonimo di preghiera viene appunto dal latino oris axio che significa letteralmente axio azione os oris significa bocca oris è un genitivo oris axio significa azione della bocca o le definizioni della preghiera nel corso della storia sono state veramente tante e San Tommaso ne passa a rassegna diverse ne prendiamo soltanto alcune che sono forse quelle più belle Sant'Agostino definiva la preghiera considerando la preghiera vocale di petizione quindi semplicemente come domanda formulata a Dio e questa certamente è la definizione corretta per la preghiera vocale di supplica San Giovanni Damasceno preferì specificare che si tratta della richiesta a Dio di cose convenienti e anche questa definizione si attaglia alla orazione vocale di domanda ecco solo che San Giovanni Damasceno si è accorto di questo però la preghiera non è solo questo è solo domandare a Dio le cose e quindi ampliando lo spettro di attenzione anche alla cosiddetta orazione mentale e addirittura la contemplazione che è il terzo grado e più alto della preghiera definiva appunto come preghiera qualunque elevazione della mente a Dio quindi in modo tale che nell'elevazione della mente a Dio io elevo la mente a Dio sia quando gli chiedo qualcosa ma anche quando penso a lui per meditare su di lui sulla sua grandezza sulla sua parola e soprattutto quando lo contemplo quindi quando lo fisso e ne fisso i misteri con visione intuitiva e con sguardo amante e adorante con la preghiera in ogni caso la preghiera attenzione quando qui stiamo dentro ricordiamo sempre stare dentro la virtù della religione e quindi dentro la virtù cardina della giustizia che cosa significa che tutte le cose che ci siamo detti fino adesso cioè l'adorazione a Dio è dovuta cioè non è che se tu entri in chiesa e fai la genuflessione davanti al santissimo sacramento gli fai un favore al nostro se si ammazza che bravo ha fatto giustizia nel santissimo sacramento no mazza che bravo manco per niente perché se non lo fai è peccato quando una cosa è dovuta se non si fa è peccato la stessa devozione in quella parte cioè allora l'amore affettivo verso il nostro signore cioè non è che me lo posso dare da solo posso mettermi in condizione però di farlo nascere però il desiderio di essere sottomessi a Dio quindi la volontà di essere sottomessi e di servirlo questi sono atti volontari sono atti di volontà e noi questi dobbiamo farli non è che sono un optional se mi va no 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 se ti va questo se fa appunto e basta dobbiamo fare attenzione a a questi aspetti la devozione e l'adorazione che abbiamo già visto sono atti dovuti dovuti a Dio la preghiera è un atto dovuto chi non prega mai fa peccato quando uno si va a confessare specialmente le confessioni un pochino occasionali da parte di persone se tu non preghi mai lo devi dire al confessore se uno prepara la confessione generale per esempio della vita ricorda che c'è stato un periodo più o meno lungo in cui della sua esistenza e che uno non ha pregato mai lo devi dire perché è un peccato grave perché pregare non è un optional pregare è un dovere è dovuta a Dio alla nostra preghiera non è facoltativo certo nessuno ti sta con il fucile appuntato quindi sei tu che dovrai liberamente e volontariamente scegliere di pregare ma di per sé la preghiera è dovuta con la preghiera si attesta e si riconosce che ogni bene e beneficio di qualunque genere materiale morale spirituale di grazia o di gloria viene da Dio e quindi a lui va sempre e comunque e dovunque umilmente chiesto la chiesa insegna sulla scorta di tradizioni bimillenarie che l'effetto della preghiera è quadruple la preghiera ha sempre un'efficacia impetratoria satisfattoria e meritoria e meritoria ecco perché quadriforme efficacia sotto il duplice profilo dell'accrescimento della grazia quindi ogni preghiera che noi facciamo merita un aumento di grazia e ma anche l'aumento di gloria ogni preghiera che noi facciamo merita un aumento di gloria in paradiso ora ogni preghiera rivolta a Dio abbiamo detto anzitutto sempre un'efficacia impetratoria cioè ottiene da Dio quel che chiede secondo la promessa di Gesù chiedetevi sarà dato questa è l'efficacia impetratoria e attenzione che quando Dio non può dare esattamente quello che gli si chiede perché nella sua nascente perfezione sa e vede che questo sarebbe male o per il richiedente o se si tratta di una grazia richiesta per un'altra persona per colui che ne è il destinatario sempre e comunque questo non potiamo mai dubbitarlo concede qualche altra grazia a chi gli ha rivolto la preghiera se non ti dà quello che vuoi ti dà l'equivalente in bene per te o per colui per il quale hai pregato infallibile questa cosa possiamo esserne sicuri cento per cento poi ogni preghiera ha sempre anche un'efficacia satisfatoria ossia espia i residui di pena contratti con i peccati commessi e purifica l'anima dalle loro macchie scorie per questo che adesso che il regime del sacramento della penitenza altro sacramento super in crisi è tale che la penitenza svolge ormai una funzione quasi esclusivamente simbolica però il fatto che dice come preghiera di una decina del rosario ti fa comprendere che pregare in questo mondo è anche un'opera penitenziale infatti fa parte delle tre opere penitenziali quaresimali la preghiera al digiuno e l'emosina quindi perché pregare comporta un sacrificio comporta tra virgolette un certo peso perché noi non stiamo adesso in paradiso in paradiso la preghiera è soltanto fonte di gioia assoluta però delle volte uno non ha voglia delle volte uno si scoraggia perché che Dio sempre ci ascolta e sempre ci saudisce sono cose che noi sappiamo dalla fede ma non ne facciamo esperienze e delle volte pregare può essere molto faticoso ma ecco l'efficacia satisfatoria espia residui di pena contratti con i peccati commessi e purifica le anime dalle macchie e dalle scorie infine la duplice efficacia meritoria della preghiera attenzione mentre l'efficacia è impetratoria dell'efficacia satisfatoria la persona può indirizzarla esclusivamente a beneficio del prossimo e per esempio chi conosce San Luigi Monforte spiegava che la vera deluzione alla Madonna nella Santa Schiavitù d'Amore comporta la rinuncia a disporre dei meriti satisfatori e impetratori delle proprie preghiere e opere buone perché appartengono a Maria viceversa gli aspetti dell'accrescimento di grazia e del grado di gloria non sono comunicabili al prossimo non è possibile ognuno ce li ha per sé e Dio per tutti non si possono comunicare perché l'efficacia meritoria della preghiera è estrettamente personale quindi una preghiera ben fatta da un lato fa aumentare e crescere la presenza della grazia santificante in noi dall'altro ci procura superiori gradi di gloria in cielo queste sono cose personalissime in cielo certo che in cielo perché la gloria del paradiso non è certamente uguale per tutti il nostro stesso godimento di Dio quindi la nostra capacità di conoscerne e di fluirne considerando il fatto noi comprendiamo che Dio è infinito che nessuno può esaurirlo ma quanto godremo di questa sua bellezza in misura proporzionata ai meriti cioè in paradiso sono tutti quanti certamente contenti perché se uno arriva in paradiso con due d'accordo tanto per farci capire cosa godrà in paradiso l'equivalente del suo due ma se uno arriva in paradiso con duemila cosa godrà l'equivalente del suo duemila o chi sta a due lo sa che ci sono molte persone che godono di più di lei anche se questo non procura sofferenza perché lei sa benissimo che il suo limite è due e che più di quello non è in grado di poterlo fare però qualcuno dice che ci sono esperienze che uno dei desideri molto comuni dei santi è che se fosse possibile vorrebbero tornare sulla terra per fare qualche opera buona in più preghiere penitenze le posine opere buone appunto per aumentare in gloria in cielo quindi pensiamoci adesso che sicuramente è meglio ora inutile dire che cioè inutile dire è bene ribadire che la preghiera più perfetta è quella che deve essere sempre la la base di tutte le nostre preghiere vocali è il Padre Nostro perché le sette predizioni del Padre Nostro racchiudono tutto ciò che è necessario e importante per la vita della nostra anima subordinatamente anche per quella temporale e per noi e per tutti Sant'Agostino diceva sempre noi possiamo anche rivolgersi a Dio con altre parole ma dobbiamo sempre stare in quello che chiediamo a ciò che è detto il Padre Nostro quindi possiamo usare altre parole ma non possiamo e non dobbiamo chiedere altro da Dio rispetto a quello che ci ha insegnato a chiedergli nel Padre Nostro San Tommaso va avanti ancora e dice che esistono quattro condizioni assolutamente necessarie perché la preghiera sia sempre saudita questo è interessante amici primo chiedere per sé ci può chiedere per sé è certo chiedere per sé perché se noi chiediamo per qualcun altro io non posso mai essere certo che la preghiera sia saudita anche perché non posso sapere non posso sapere se la persona è disposta oppure no ad accogliere quella preghiera e le grazie che da essa scaturerà perché una preghiera sia sempre saudita bisogna che si chieda per sé cose necessarie alla salvezza quindi le uniche che Dio sempre prontamente concede a differenza delle richieste di grazie temporali farlo con pietà poi ci torneremo sulla pietà quindi in modo degno della presenza di Dio e della sua maestà ovvero con devozione interiore e compostezza esteriore e perseveranza non sporadicamente o saltuariamente dato che Gesù ha raccomandato guardare le preghiere della vedova importuno della vedova sì della vedova importuno e dell'amico importuno anche quindi la preghiera va fatta con insistenza e perseveranza ecco perché questo aspetto perché delle volte il nostro Signore non ascolta e non e ottempera e non esaurisce alla richiesta subito subito ma ci vogliono un certo numero di preghiere necessarie per ottenere quella grazia e bisogna farle o anche le specie della preghiera continua San Tommaso sono quattro e sono si 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 colgono nel testo di primo Timotio capitolo 2 versetto 1 ti raccomando dunque prima di tutto che si facciano domande suppliche preghiere ringraziamento per tutti gli uomini quindi domanda supplica preghiera ringraziamento ora la forma più alta di preghiera già capiamo da questo crescendo è il ringraziamento e quindi conseguentemente la lode e si loda a Dio con le labbra non per manifestargli la nostra alta opinione di Lui perché Lui lo sa benissimo quello che pensiamo di Lui scudando i cuori ma per eccitare gli affetti alla lode di Lui e testimoniare anche ad altri la sua eccellenza testando gioiosamente in questo modo che Gli ha fatto bene tutte le cose non solo in generale ma anche in particolare nella vita e nell'esistenza di chissarodarlo in ogni luogo e in ogni tempo bene amici direi che forse è bene fermarci qui c'è ancora qualche cosa sulla virtù cardinale della giustizia però forse è meglio dedicarlo alla prossima puntata perché ci sono alcuni aspetti un po' particolari che è bene trattarli con calma e approfondirli bene che seguito la diretta una santa notte a tutti a tutti coloro che seguiranno anche la riferita la mia benedizione che Dio vi benedica e la Madonna sempre io vi benedica Amen e la mia benedizione e la mia benedizione